Cosa ne pensi tu della sostenibilità e cosa fai per migliorare questo aspetto dell'ambiente? Dunque, ci sono delle piccole azioni che ognuno di noi può compiere senza grossi sforzi. Siccome io magari mi sento un po' in colpa anche per il fatto che fumo le sigarette, che già non è una cosa proprio meravigliosa, per esempio mi sforzo ogni volta di cercare, anche se sto per strada, che ne so, un po' sacene, oppure che ne so, in spiaggia, io mi porto sempre una bottiglietta d'acqua, ci speggo le sigarette dentro, le metto tutte dentro e alla fine, quando ho fatto la mia giornata al mare, vado a buttare tutto quello che ho, diciamo, creato.